Ciao a tutti, con questo video desidero aderire all'appello lanciato da Carlo Sibilia in merito alla guerra in Siria che sembra ormai purtroppo imminente. Vorrei anch'io dire che l'Italia ripudia la guerra come metodo per risolvere i problemi di politica estera, quindi questo è il primo punto, ma soprattutto anche se non esistono guerre giuste, questa come tutte le guerre è assolutamente ingiusta perché la Siria è diventata un target solo perché è un paese, uno dei pochi rimasti in Medio Oriente ad avere una moneta indipendente fuori dal Fondo Monetario Internazionale e quindi purtroppo essere bombardati è il destino che rispetta a coloro che cercano di rimanere indipendenti dal Fondo Monetario Internazionale o dalla BCE, infatti è la stessa cosa che è successa all'Iraq, lì c'è anche il petrolio come motivazione, è la stessa cosa che è successa alla Libia, dopo che siamo stati partner per tanti anni, siccome Gheddafi voleva lanciare una moneta africana per rendersi indipendente dal Fondo Monetario Internazionale, ecco che l'hanno massacrato, la stessa cosa è successa all'Iraq e la stessa cosa succederà all'Iran, sempre per la stessa ragione e una fine triste come quella di Gheddafi hanno fatto fare anche al grande Thomas Sankara, il presidente del Burkina Faso, proprio che voleva affrancare tutti gli stati africani dal Fondo Monetario Internazionale. Quindi siamo alle solite, i gruppi Bilderberg, trilaterale, eccetera, fanno le guerre, ordinano le guerre, perché chi si oppone al sistema mondialista del Fondo Monetario Internazionale, BCE, eccetera, deve essere annientato. Io mi oppongo a questo, quindi faccio appello a chi ha il potere di prendere questo tipo di decisione in Italia di non aderire a questa guerra in nessuna forma, non dobbiamo dare neanche nessun tipo di supporto logistico o con tutte le basi che purtroppo assollano il nostro paese. Ringrazio Carlo per quest'idea, aderisco ovviamente con gioia e spero che gli italiani riescano a far sentire la propria voce in modo da evitare questo ulteriore scempio della democrazia e questa ulteriore violenza che potrà accagionare la morte di tanti innocenti, oltre che la sottomissione di uno Stato sovrano. Poi se Assad veramente sta uccidendo bambini con gas, eccetera, questo da verificare, al limite può andare l'ONU, ma assolutamente nessuna guerra, né in Siria, né in nessun altro posto del mondo. Grazie Carlo, un abbraccio a tutti da Salvo Mandarà.